Allora, questa è la relazione che parla chiaro, quella del parco, così leggendola, così come l'abbiamo letta anche noi, punti d'incontro non se ne possono trovare. Come hai potuto ben vedere sulla lista della spesa che hanno scritto è praticamente invalicabile. Fra l'altro loro, quando emettono il parere di incidenza ambientale negativa, lo dicono chiaramente, che sulla base di tutte le considerazioni espresse, le loro, quelle che dicono che sono molto insufficienti del centro turistico e del comune, si evidenzia che l'incidenza non è miticabile. Questo termine per me significa che non c'è discussione su questa cosa. La cosa che preoccupa, andremo a vedere analiticamente anche questa cosa, anche le dichiarazioni posteriori. Cioè, quando il dottor Petruccione dice che una mera sostituzione avrebbe trovato meno problemi, significa che avremmo comunque trovato problemi. Allora qui il problema è grande. Quindi la relazione è, credo, un punto di partenza per noi di guerra. Forse per la politica di discussione, per le popolazioni è micidiale, perché sarà una pietra tombale su tutto quello che si andrà a fare. Perché voglio ricordare, è interessata a questo punto, con i stessi presupposti, anche la cabinovia di Monte Cristo. E certo. Perché quella non è, non si tratta di sostituzione. Allora, mi chiedo, sul raddoppio delle fondari, che è una corbelleria, allora mettiamo subito in chiaro, raddoppio di un impianto significa fare una seconda linea di risalita efficiente. Invece questi tecnici, che sono bravi scientificamente, ma tecnicamente sullo sci e sul turismo forse non sono tanto altrettanto bravi, intendono raddoppio, fare un'altra linea. Quindi, pur smontando la vecchia, la nuova è un raddoppio, perché dalle dichiarazioni che fanno mi pare di aver capito questo. Però, diciamo, la relazione non è che se lo sono sognato, inventato, quando parlano di particolari situazioni, di biodiversità, di specie... Vabbè, quello sul punto tecnico scientifico io non ci metto mano. Guarda caso, escono solo quando bisogna fare qualcosa. Perché prima non c'erano queste osservazioni? Allora, che gli alberghi della Fossa di Paganica fossero così impattanti, che i vecchi impianti della Fossa e di Monte Cristo siano arrugginiti e lì da anni e anni. Ci sono da 30 anni. Cosa ha fatto il parco? Dicevo un'altra cosa, escono fuori delle osservazioni qui che prima non esistevano? No, 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 no. Io credo che queste osservazioni nel loro campo scientifico sono sempre esistite probabilmente, perché io non mi metto a discutere sulla specie o sulla cosa. Per me è un manto erboso o è un fringuello che passa. Quindi, quando poi si parla di habitat, se vogliamo dire una chicca, per esempio il famoso fringuello che si sta estinguendo perché si fa una seggiovia, però gli stessi ambientalisti, ma perché non dicono che il parco lì sul parcheggio dell'albergo di Campi Imperatore ha fatto una scalinata in granito eliminando un muro in sassi che era il vero habitat, il vero nido di questi fringuelli. Quindi, com'è? Eliminiamo la casa? Va bene, però perché la fa qualcuno altro. Noi facciamo un impianto, quindi noi potremmo andare a disturbare il volo da ovest ad est di questi animali. Vabbè, mi sembra che è l'anacaprina. La guerra però con il parco è un po' aleatoria di fatto perché, insomma, come dicono anche i rappresentanti del parco, il parco serve, no? Insomma, vi dovrebbe dare degli incentivi o cose del genere. Sì, sì, molti incentivi. L'incentivo ad abbandonare le culture. Puoi stare in una zona particolare, abbandonare le culture e cosa? L'incentivo ad abbandonare le culture perché come semini un po' qualcosa gli animali vanno a mangiarla e per di più, oltre al danno, anche la beffa che non arrivano i rimborsi perché la maggior parte della gente lo fa a titolo privato, non è un coltivatore diretto e non viene rimborsato. Che vi dà il parco di fatto? Cosa dà la comunità di Asseggio? Se la dovesse dire, il parco ci dà questo aiuto, questa opportunità, cosa vi ha dato? Io, guarda, io come abitante di Asseggio dico che ci ha dato uno scatolone vuoto al momento. molti programmi, molti richiami, promozione mi pare abbastanza rasoterra e di tutto quello che si sventola degli benefici di stare all'interno di un'area protetta noi non lo vediamo. Fra l'altro sui commenti dei social che ci appoggiano in questa situazione molti arrivano anche da Pescassero lì e lì anche c'è un parco. Siamo un po' dei contadinotti, no? Dei vaccari, diciamo così, mi è sembrato di leggere tra le ricche. Sì, sì, sì. Io mi accusano che sono un po' sprezzante nelle cose però purtroppo ammetto la mia ignoranza, non riesco a capire la differenza tra insalata e cicoria e quindi ammetto le mie ignoranze in campo. però vedo che dall'altra parte non fanno di meno, cioè ci danno, sì, questi signori conoscono bene il loro territorio, le loro coltivazioni, i loro pascoli metro quadro per metro quadro però per noi, ti riguarda, noi non è che sia poi tutta questa offesa chiamarci coltivatori e agricoltori perché i nostri padri quello facevano e loro non ce lo fanno fare più. è gravissimo e da Sergi sono veramente arrabbiati per questa storia perché hanno dovuto abbandonare tutte le colture per ovvi motivi la Valle del Raiale è veramente uno schifo è uno schifo da quando ci sono le norme di salvaguardia, è uno schifo e quindi veramente, vabbè, poi passiamo in un altro discorso più generale che è quello di un'area protetta che è fine a se stessa, autoreferenziale non ha un contatto diretto con le popolazioni io stamattina l'ho prefigurata così, per esempio mi sembra tanto di vedere un film western dove i nordisti piazzano questo fortino imponendo le loro tradizioni e fregandosene di quei quattro Zulu indigeni indiani che hanno avuto sempre una storia hanno mantenuto il territorio perché il territorio come ce l'hanno che loro ne declamano la bellezza lo hanno fatto i nostri padri, mica loro e il punto di incontro è difficile però devo dire che il consiglio direttivo del parco si è espresso favorevolmente allo Zulu quello senza ambientalisti, sempre tra virgolette probabilmente, fatto di tecci e persone sensate purtroppo quando non si è... La relazione invece scientifica chi l'ha fatta? La relazione scientifica l'ha fatto l'ufficio scientifico mi pare di aver capito dalla stampa che lo ha ritratto una dottoressa Tinti con riferimenti continui al dottor Petruccioni che fra l'altro ha doppi ruoli, fa il forestale Ma si può fare contemporaneamente nel senso fa il forestale più... Non lo so L'avete sollevato questo problema? Ma sinceramente io a casa degli altri non vado a guardare, non mi interessa però io se fossi lì nei comandi una domanda me la farei essere controllore e controllato però a me non interessa questa cosa lo lascio ai corpi della forestale il problema grosso, grande che noi sapevamo da tempo però purtroppo adesso è venuto alla luce adesso avendo un'opinione pubblica contro perché l'Aquila vuole lo sviluppo vuole del Gran Sasso adesso è dimostrato se ci costringono a dimostrarlo col referendum lo faremo anche con il referendum e si vedono in un angolo e adesso hanno scritto nero su bianco quello che è effettivamente adesso il parco quindi intanto stracciassero immediatamente questa relazione tecnica deve essere fatta un po' più adeguata alle situazioni, ai momenti e alle volontà dei territori e poi si parlerà si parlerà certo i presupposti dovranno essere diversi cioè non possiamo ogni volta ogni volta avere i dieci comandamenti lì e ogni volta che si fa qualcosa questa relazione che è questa da stracciare questa va cestinata perché questa è la cioè ma tra tutti i detrattori ambientali che io al 70% gli do ragione hanno ragione su quei detrattori ma io però dico come mai se ne accorgono solo adesso ma ci sono anche i commercianti gli ambulanti e dicono specificatamente questo nel parcheggio ma spesso anche l'Ulola Strada sono presenti attività commerciali e ambulanti che per rumore odore e rifiuti essendo permanenti per tutta la stagione estiva una cosa gravissima costituiscono un detrattore ambientale cioè noi non possiamo fare nemmeno il commercio ambulante là sopra cioè non non si può fare rumore non si può fare l'odore della salzone no no che gli viene fame a qualche tipo di selvaggina che non può mangiare altro che l'erba io non lo so è incredibile quindi punto di partenza cestinare questo e poi vedremo il seguito